La Chiesa di oggi è ricca di martiri. Oggi sono più i martiri che in tempo dell'inizio della Chiesa. Nei martiri sono dappertutto. La Chiesa è irrigata dal loro sangue, che è seme di nuovi cristiani, e assicura crescita e fecondità al popolo di Dio. I martiri non sono santini, ma uomini e donne in carne e osa che, come dice l'Apocalisse, hanno lavato le loro vesti rendendole candide nel sangue dell'agnello. Essi sono i veri vincitori.